altrimenti di fronte alle difficoltà che vivono milioni di persone la piegatura sarà a destra perché è la risposta più semplice, più immediata e anche più falsa. Allora Salusti aggiungo anche, tu vuoi intervenire, ma aggiungo una domanda che riparto su questo tema con te perché Cuperlo che è stato ovviamente alla tre giorni del Partito Democratico lo scorso fine settimana e il segretario del suo partito Zingaretti che ha rilanciato la sinistra con le parole d'ordine sull'immigrazione che erano appunto dobbiamo accogliere, insomma molto filo emigrazione se posso così essere un po' giornalistica nel mio sunto secondo te fanno bene a ricominciare da lì? No, secondo me sbagliano perché è vero che la politica e i partiti dovrebbero dare la rotta al popolo ma è anche vero che se dai al popolo una rotta che il popolo non vuole prendere non prendi largo e quindi partire da quel tema che è molto sensibile anche dentro l'elettorato di sinistra mi sembra sì una cosa identitaria rispetto alla destra o al centro-destra ma mi sembra che gli elettori gli hanno già spiegato nelle ultime tre o quattro elezioni che quella strada lì non la vogliono prendere. Per quanto riguarda Bersani il problema non è il nome del partito il problema è Bersani e attenzione parlo di una persona che stimo, che ammiro che ha fatto delle cose significative nella vita politica italiana quindi non stiamo parlando di un cretino ma Bersani ha cambiato tre o quattro volte nome ai partiti in cui il PC, il PD, il PD, l'Ulivo e poi adesso Liberi Uguali ma il problema è lui, non è il nome ma non lui perché ripeto non è valido perché è una classe politica che secondo gli elettori anche i suoi ha fatto il suo tempo perché se no Liberi Uguali, pronti via, sarebbe andata al 15% invece sostanzialmente è lì al 2% o 1% quindi il problema non è il nome non è il nome il problema, è evidente il problema non è il nome il problema è se il PD, che per ragioni anche di immagine secondo me farebbe bene con un congresso nuovo, fondativo, rifondativo a cambiare anche il nome perché ormai l'elettorato ce l'ha in mente uno? no, l'opinione pubblica il PD è la storia di questi anni che è una storia, diciamola pure, fallimentare o no o mi sbaglio eh, cavolo insomma, come si può... quindi, bisogna cambiare ma non è quello il problema il problema è se Zingaretti il gruppo dirigente del PD ha chiaro su quale linea avviene la rifondazione allora deve essere una linea che attinge fino in fondo ad energie locali ristrutturando il partito in modo che quello che è presente nella società civile italiana l'associazionismo, il volontariato, eccetera, eccetera che tutti conosciamo essere in gran parte orientato in un certo modo arriva ad essere protagonista all'interno di questo partito e poi la radicalità delle proposte di riforma riforme istituzionali, riforme economiche, eccetera la radicalità perché l'inseguire il moderato come fa l'amico Calenda che ho visto ieri da lei è patetico perché non esiste più il moderato in questo paese dove lo trova il moderato? dove stai il moderato? quindi deve essere proposte radicali di politica economica, politica fiscale, eccetera, eccetera coerenti, non radicali quindi esiste solo una destra che si è formata adesso riorganizzazione e poi una riorganizzazione del partito che mi spieghi quale tipo di struttura politica intende mettere in piedi io no, ho grande rispetto e capisco la sintesi giornalistica però tutto sommato le cose che ha detto adesso Cacciari sono state un po' l'oggetto della tre giorni di Bologna no, certo nel senso che noi abbiamo provato ad andare a disturbare interlocutori che da anni non venivano a un appuntamento con il partito democratico l'80% delle relazioni, degli interventi che si sono succeduti nelle plenarie nei laboratori che abbiamo tenuto erano di profilo aspettavamo 7-800 persone ne sono arrivate quasi 4.000 e quindi c'è una domanda ma non è che noi abbiamo ma potete rilanciarvi con lo Ius riproponendo lo Ius Soli che non è neanche Ius Soli perché è un Ius Cultura ma Nicola ha fatto un discorso quando ha ragione Temo Sallusti che anche gran parte del vostro elettorato sull'immigrazione è molto perplessa no, distinguiamo adesso c'è un problema che riguarda l'immigrazione ne abbiamo discusso mesi e anni sul provvedimento di legge come lo Ius Cultura c'è una maggioranza a mio avviso di consenso in questo paese anche in una parte dell'elettorato ma l'avete chiamato Ius Soli quando non è Ius Soli no, l'abbiamo chiamato Ius Cultura beh adesso la proposta ma no, le parole hanno un senso le parole hanno un senso come diceva Quello non c'è dubbio ma ragioniamo di un provvedimento che riguarda lo Ius Cultura cioè quello che è il profilo di una riforma che garantisce la cittadinanza a chi vive, nasce, vive in questo paese e completa un percorso di studi ma che cosa abbiamo fatto a Bologna? di che cosa abbiamo discusso? perché poi anche questa sera in questa piacevolissima conversazione il tema rimane sullo sfondo che questo paese rischi all'osso del collo che il declino italiano strutturalmente parlando è in una situazione che ci mette tutti nella condizione di trovare nuove ricette guardi la produttività in questo paese è ferma da 20 anni il reddito medio pro capite in Italia è lo stesso di 25 anni fa e come spiegano gli economisti non accadeva a dei tempi di Cavour al netto delle due guerre mondiali produciamo quello che producevamo 15 anni fa noi a Bologna abbiamo chiesto agli esponenti dell'economia dell'impresa c'era il presidente di Confindustria i vertici sindacali associazionismo le persone che hanno continuato a pensare ad agire in questi anni fare cittadinanza attiva in questo paese proviamo a riscrivere anche le categorie con cui leggere il futuro e le cose che dice Cacciari sulla riforma dello Stato su un'idea di federalismo che va recuperata sulla riforma del diritto societario del diritto dell'economia del diritto fallimentare del risparmio sono questi i temi sui quali distingui l'identità di una sinistra di un centro-sinistra che si candida a portare il paese fuori dal tunnel lei sa che Cacciari forse tornerà a fare politica attiva vero? lei ha detto che sarebbe disposto a 90 anni no ha detto che sarebbe disposto no? eh? ma sarei disposto sì disposto alle riunioni eccetera non le sopporto più se si tratta di dare una mano per formare un gruppo dirigente per formare dei giovani che ci sono disposti poi loro ad impegnarsi attivamente in politica quindi avete qui un volontario il problema fondamentale non è pregevolissimo volevo rapidamente ci prometta che non faccia un partito no 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 quello non l'ho mai fatto in vita mia non l'ho mai fatto neanche le liste non l'ho mai fatto neanche la lista del sindaci di quelle robe l'ho mai fatta volevo interpellare tutti e tre rapidamente su questo nuovo fenomeno perché lei Cacciari prima diceva che appunto oggi si formano movimenti che poi si sciolgono in tempi rapidissimi andiamo in cerca di vedere se sono di dentro o di sinistra movimenti uno di questi ce n'è uno nuovo in Italia che è quello delle sardine che tra l'altro stasera hanno invaso Palermo al grido di no alla Lega e cantando Bella Ciao ora Sallusti oggi ha scritto nel suo editoriale delle cose tremende su queste piazze che riempiono l'Italia il titolo è no il titolo mi pare sono soltanto fascio comunistelli perché un giudizio così sommario su un movimento così pacifico dove è? dove è? ma innanzitutto perché io sono rimasto molto perplesso nel loro documento fondativo laddove dicono che la Lega per intenderci il centrodestra ha diritto di parola ma non ha diritto di ascolto io penso che negare il diritto di ascolto che non è un dovero ovviamente ma è un diritto sia una cosa da fascio comunistelli i fascisti e comunisti impediscono la gente cioè i ragazzi che sono a Hong Kong barricati nell'università non hanno diritto d'ascolto secondo il governo quindi negare il diritto d'ascolto è una cosa che mi terrorizza ma detto questo io credo che non ce la raccontano giusta perché secondo me sono delle sardine allevate nell'acquario del PD perché dico questo? perché c'è della novità nelle modalità nelle facce nelle facce però le parole d'ordine sono addirittura più vecchie di quelle che sentiamo tutti i giorni cioè per dire che se vince le elezioni i sardini c'è un pericolo per la democrazia basta cuperlo è anni che va in giro a dirlo in televisione legittimamente cioè non c'è bisogno che arrivi un ragazzo per ridircelo quindi a me sembra una manovra un po' strana allora manovra strana Cacciari ha capito lei chi sono queste sardine? sono espressione di questo una volta sono caratterizzati in un senso una volta uno un altro una volta sono sardine un'altra volta è greta eccetera eccetera una volta sono più ecologisti una volta meno una volta sono i 5 stelle sono sono il sintomo di un malessere radicale delle democrazie europee tutte quindi vanno lette con estrema serietà e come può fare la sinistra a intercettare queste la sinistra deve mettere insieme un programma che raccolga in modo con una logica di governo queste diverse istanze riforma della scuola dell'università ecologia ambiente legato all'industria eccetera eccetera fin tanto che non appronterà dei programmi credibili di governo che mettono insieme queste diverse istanze queste diverse istanze esploderanno una volta a destra una volta a sinistra una volta al centro una volta dove vuoi in modo assolutamente disordinato aumentando il casino generale che regna nelle democrazie europee con effetti che vanno non è io non ho mai detto che Salvini è un pericolo per la democrazia non l'ho mai detto e Sallusti lo sa non l'ho mai detto dico che è una destra non europeista una destra che non ha nulla a che fare con il centro-centrodestra di Berlusconi prima cosa e questo è assolutamente innegabile e che costituisce un pericolo per la democrazia ma non in quanto lui voglia come Mussolini o come Hitler sfasciare la democrazia ma in quanto agisce rendendo ancora più fragile l'assetto democratico di questo paese rapidissimo rapidissimo voglio rassicurare Sallusti non penso che se vince Salvini è un pericolo per la democrazia penso che se vince la destra è un pericolo per il paese per la tenuta del paese ma questo è un altro discorso io vedo il lato positivo glielo dico onestamente se la piazza di Giovedì a Bologna l'avesse convocata il mio partito non ci sarebbe stata tutta quella gente è un atto di onestà no però attenzione mi collega Cacciari come parli a quella piazza intanto è un fatto positivo che decine di migliaia di persone escano di casa la sera e vanno lì per dire io difendo dei valori dei principi come si fa a parlare con quelli se me lo fa dire lo dico se non c'è tempo allora lo dico quando c'erano i 50.000 in piazza a Bologna con Grillo ma io non ho mai disprezzato i 50.000 che vanno in piazza con Grillo no allora me lo faccio dire dica una cosa che bisognerebbe fare per intercettare questo movimento che però che rischia etichette di sinistra ve la dico con un esempio telegrafico il Portogallo tre anni fa ha elevato l'obbligo scolastico a 18 anni in tre anni hanno ridotto del 30% la dispersione scolastica e della metà del 40% i cosiddetti net se è una riforma a costo zero lo faccia questo governo e migliaia di quei ragazzi che hanno riempito piazza maggiore a Bologna e le altre piazze apprezzeranno quel provvedimento questo governo non sappiamo fino a quando durerà perché Di Maio anche tutta la sede pomeriggio sera ha continuato a dire diremo noi 5 stelle quando andarcene chiudere con questo governo quindi vedremo intanto però lei ha citato le tematiche ambientali ed è un tema centrale questo delle politiche ambientali soprattutto per i più giovani poche secondi pubblicità è poi il punto di Pagliaro di Pagliaro di Pagliaro di Pagliaro grazie a tutti